Occhi kuchino yakisoba Yeeeh Ok mettiamo subito la carne Eccola qua La nostra kumiko mette la carne in padella Il pollo La mettiamo bene 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 a rosolare Per fare la nostra yakisoba Yakisoba Ha detto che ce la mette tutta la nostra kumiko Speriamo Ha detto che però è facilissimo fare la soba Quindi in teoria dovreste essere capace di farla anche voi Adesso mettiamo anche il pima E ecco qui che così mettiamo tutto a rosolare Mettiamo anche qua un po' di kiabetsu E il nira E i moyashi Che sarebbero i germogli di soia Allora prima si mette questo a riscaldare per bene E poi si aggiunge la yakisoba Quando vediamo che è un po' bruciacchiatino Mmm che fame Che voglia di yakisoba ragazzi A voi piace la yakisoba? Scrivetemelo subito nei commenti Wow la yakisoba di kumiko Sembra uno spettacolo Guardate quanto è brava kumiko a fare la yakisoba Proprio brava Bravissima Ragazzi ma questi video di cucina vi piacciono O ci divertono solo a noi? Perché noi ci divertiamo un sacco a farli Scrivetemi nei commenti se vi piacciono Perché così continuerò a farle sempre di più Ma avete visto? Cucinare giapponese non è così difficile La yakisoba è stata molto più facile di quello che pensavo In realtà è la prima volta che la cucino Però Impiattiamo Eccola qui la nostra yakisoba Eccola qui la nostra yakisoba è stata molto più facile di fare la tua